L'hanno scoperto, torna indietro. Sei in una zona controllata dal nemico, lasciala subito. La tua posizione è stata compromessa. Il nemico ti scoprirà se rimani in questa zona. Ti hanno visto. Se rimani in questa zona, il nemico ti scoprirà. La tua posizione è stata compromessa. Squadra d'attacco eliminata. Missione completata.